Posso riscendere i gradini? Ma bisogna salirli questi tre gradini possono essere pericolosi Andate a catechismo, a finire i compiti che ti hanno pure rubato il triciclo Va, va, va Va via Buonasera a tutti, belli e brutti Ringrazio a Zelli che mi dà la possibilità di dimostrare, signore, che il cabaret non è soltanto frizzellazzo ma anche scienza e anche cultura Benvenuti qui all'angolo dell'ingoscio Qui nell'angolo dell'ingoscio voi potete parlare con sincerità senza tabù, signora di tutto quello che c'è dentro pensieri, paure, tumore tutte le schifezze che c'è avete nel cervello Con sincerità perché il problema è che quando noi diventiamo grandi, diventiamo bugiardi, signora diventiamo i propri di silenzio e diventiamo i co, i co e copri i ipocrite invece quando si è bambini silenzio invece che quando si è fuori invece che quando si è bambini si è sinceri fanno fare panno a pane vino al vino se ha un bambino ci ha chiedito come vuoi che sia la scuola lui vero, sbonderà chiusa non è che dice vogliono molte lingue stimolanti. Ecco, noi dobbiamo fare un piccolo arrepasso, perché io voglio che partiate tutti dal stesso livello altissimo di preparazione di basi. Ingoncio. Ingoncio. Ingoncio, chi è l'ingoncio? Chi è l'ingoncio? Ha pigiato appunto, che non vi rimane un cazzo in testa po'. Allora, l'ingoncio... Freud, la famosa psicanalista, dice che l'ingoncio è un fenomeno psichico del quale noi non conosciamo nulla. Perciò alla domanda che è l'ingoncio, a Freud risponde, che cazzo mi so, è ingoncio. Perciò nell'impossibilità di fare luce, noi vediamo chiaramente l'oscurosà. che ho detto? Ha ha, che cazzo ne so appunto, è ingoncio. Comunque ecco qui, nell'angolo dell'ingoncio noi possiamo vedere gli scherzetti che vi fa l'ingoncio e porvi il rimedio, perché qua noi non vendiamo sogni ma sordi del realtà. Perciò, caro spettatore, qua poi devi parlare con sincerità, dire tutto senza pudore, che la verità ti rende liberi, soprattutto di farci cazzo tuoi, minchione. Tanto cominciamo col povero Lucrezio che scrive, ti scrive, signora, ma qualcuno può accompagnarlo fuori? E povero Lucrezio scrive, da qualche tempo ho un amico immaginario che si chiama Anthony, è un coniglio lavoratore, che ultimamente si è messo anche a lavarmi piatte. Io sono al settimo cielo, mia mamma però non vuole che parli di Anthony, con nessuno, che la gente poi parla, perché è così sbagliato che Anthony mi lava i piatti. Guarda, che ci diciamo Anthony, la questione è più complessa, però sentiamo un po' Anthony, i piatti sono puliti? Sì, e allora buttate nel cazzo! Anthony fatica, tu ti guardi la tv, che manco ci devi pagare i contributi. Sentiamo, adesso sentiamo, accatiuccia, concentrazioni, povero accatiuccia, dice, mio marito, dice, è una brava persona, pensa che ha dato da lavorare a tutta la sua famiglia, suo cugino compreso, che si è da sempre malato, ma con me invece mio marito è davvero poco gentile, mi dice sempre che sono grassa. E da quando ho scoperto che a fare le pulizie di casa si consumano un sacco di calorie, mi ha detto di licenziare a cough, che così a me mi cala la panza e a lui ci sale il conto in banca. Anche i miei figli mi dicono che sono grassa, i miei colleghi mi dicono che sono grassa, le mie amiche mi dicono che sono grassa, l'unico che mi dice che non sono grassa è cugino malaticcio, non ne posso più, a volte mi butterei giù dalle scale, che mi dici tu? Sento un po' cattuccia, cattuccia. Mi dico, ma che ti butti giù dalle scale? che tanto rimbalzi. Ma buttate nel cazzo. Intanto è una questione sociologica, che se sa che le singles, che le singles quando torno a casa che fanno? Guardano cosa c'è nel fricco, di solito signora uno yogurt sminchio, signora pure magro, coi coflax, a musli, a crocca, a crocca, a crocca, quei minchiattili che si mettono nella lata che ti devono far passare la fame che io dopo dieci minuti un capretto mi mangerei. Se mangiano yogurt, poi vanno a letto con la panza piatta, signora Marco bebe dolche, non so mai, la speranza è l'ultima a morire e possiamo arrivare una guardia giurata a cercare l'antefurto nell'appartamento sbagliato, un ladro a cercare la cassaforte nell'appartamento sbagliato, un pompiere a cercare una pompa nell'app... Giusto o sbagliato che sia? Invece che fa la maritata signora? Torna a casa, guarda che c'è nel letto, da solo tuo marito signora che è rossa, sacco pigiamone mollo, di maglina molla, da solo con la mano inflata nel pantalone a confortare il fidato amico mollo. E che fa? A quel punto si infila nel frico che è sempre bello pieno, no? A quel punto si inghiatta. Dico io, questa è una questione sociologica, ma secondo me a tuo marito non ce l'hai fatto un cazzo dalla sociologia, perciò ripetici quello che ti dico io e vedrai che capisce. Quando tuo marito ti dirà quando è che impari a fare i lavori di casa che così licenziamo la colvo? Tu gli risponderai, caro mio, e quando è che tu impari a fottere che così io licenzo il tuo cugino o scansa fatiche? E arrivederci, grazie. Grazie.